La grande vittoria dell'altro giorno in casa di Chieri ci ha permesso di avere questa grande settimana in attesa della sfidante della semifinale. Questo ci permette di ricaricare a pieno tutte le energie che abbiamo consumato in questo quarto di finale che non è stato affatto semplice per la qualità degli avversari e quindi abbiamo la possibilità di lavorare in palestra al meglio, recuperare le energie e prepararci alla nuova sfida che ci attende. Sì, abbiamo preparato un programma in attesa della gara di giovedì prossimo, quindi step by step arriveremo pronti a questa sfida. Inizieremo la settimana guardando di più attenzione al fisico e ai dettagli tecnici e più arriveremo vicino alla gara più ci occuperemo di quelle che sono le dinamiche, i meccanismi che le ragazze trovano in campo e soprattutto la preparazione della squadra avversaria che a breve scopriremo chi sarà. Grazie a tutti.